Dopo New York e Londra, a Napoli arriva Berlino. Dal 12 ottobre al 19 gennaio prossimo sarà aperta al pubblico, presso le Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo, a Palazzo Zevallos Stigliano, l'esposizione Berlin 1989, la pittura in Germania, prima e dopo il muro, a cura di Luca Beatrice. Dopo le mille luci di New York nel 2017 e London Shadow nel 2018, Berlin 1989 chiude il trittico di mostre dedicate alle grandi città che sul finire del Novecento hanno cambiato la storia dell'arte. In un percorso di 21 opere, realizzate tra il 72 e il 2003, in prestito da gallerie e collezioni private, la mostra presenta capolavori dei più importanti pittori tedeschi del dopoguerra e consente un'immersione nell'energica Berlino di fine Novecento, dove prende vita una pittura che interpreta lo spirito del tempo e usa un linguaggio libero, irruente, spiega il critico d'arte Luca Beatrice. Dopo New York, dopo Londra, Berlino, non poteva essere altrimenti, sono passati 30 anni dalla caduta del muro e soprattutto si va a recuperare il senso di una città che ha sempre avuto un'energia straordinaria, prima e dopo, un polo d'attrazione per i giovani di tutto il mondo, in particolare adesso, una città dove la pittura ha, in qualche modo, negli stessi anni in cui si è sviluppata in Italia e in parte in America, dato proprio il senso di una generazione, una generazione di ventenni e di trentenni che volevano cambiare la storia prima che la storia cambiasse davvero. Michele Coppola, direttore centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo, sottolinea la centralità di Napoli. Mi piace evidenziare come in realtà le Gallerie d'Italia di Napoli siano più volte all'anno occasione di promozione di Napoli, non soltanto in Italia ma nel mondo intero. Quest'oggi presentiamo in realtà il rapporto tra la città di Napoli, i collezionisti napoletani, i galleristi napoletani e la città di Berlino, successivamente ad aver raccontato il legame tra Napoli, Londra, Napoli e New York. E quindi mi piace, in qualche modo, evidenziare proprio il ruolo che questa città ha avuto nella promozione dell'arte e cultura e nella costruzione di un ruolo italiano in Europa e nel mondo. Credo che sia il modo migliore, quello di un museo, di raccontare l'importanza e la centralità di una comunità attraverso i legami internazionali, i legami con gli artisti, i legami con i musei internazionali, i legami con le realtà internazionali più importanti.